ciao a tutti ragazzi sono fabio e benvenuti nel mio canale oggi vorrei mostrarvi come poter finalmente impostare la lingua italiana su vrc8 ragazzi vi annuncio subito che la cosa è alquanto strana il procedimento è alquanto bizzarro perché credetemi cioè non avevo mai visto un qualcosa di simile per dover impostare un gioco in italiano sono stati due giorni dove ho rotto le scatole a tutti vrc chi ha creato il gioco di tutto e di più tra email messaggi apk games è successo di tutto e di più le loro risposte sono state alquanto bizzarre del tipo mi rispondono per impostare la lingua italiana devi devi cambiare lingua al sistema operativo di windows 10 prendere epic games dargli la lingua italiana e il gioco si avviene italiano voi direte ma che c'entra sta cosa ma che c'entra quindi io non li ho ascoltati cosa ho fatto ho preso epic games l'ho aperto così ve lo faccio vedere sono andato sulle impostazioni e nella lingua anziché italiano l'ho provato a mettere sia in inglese che in tedesco avviato il gioco ragazzi il gioco partiva sia in inglese che in tedesco dico ma come cavolo è possibile in inglese parte in tedesco parte lo metto in italiano e parte ugualmente in inglese ma è possibile sta cosa niente sono arrivato al punto che ho cercato di capire trovare file modificare niente ragazzi niente allora dico vediamo se questi tizi hanno ragione ed effettivamente ragazzi avevano ragione per quanto il procedimento possa sembrare bizzarro diciamo che per illudere un qualcosa una falla che ci sarà nel gioco bisogna fare un determinato procedimento innanzitutto su epic games ragazzi la lingua da italiano mettiamola in inglese e usciamo da epic games in un secondo momento dovremo schiacciare contemporaneamente i tasti windows e i verrà fuori questa schermata in questa schermata la sezione che non interessa è questa data ora e lingua e quindi selezionare lingua ora ovviamente io windows 10 ce l'ho in italiano non avevo altre lingue presenti quindi cosa ho fatto ho aperto lo store e ho scaricato la lingua inglese una volta fatto questo partirà un download a download completato in questo elengo voi potrete selezionare la lingua che avete scaricato nel mio caso inglese guardate cosa succede allora dobbiamo selezionare in english e dirgli si disconnetti adesso una volta ragazzi che ci siamo ricollegati troveremo il sistema operativo completamente in inglese infatti possiamo vedere che la lingua è cambiata quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo aprire epic games guardate ragazzi la cosa è alquanto strana alquanto bizzarra andare su settings e in questo elengo selezionare la lingua italiano guardate qua non la da più come default ma la da come lingua a sé e noi clicchiamo italiano andiamo indietro e avviamo urc 8 guardate ragazzi già il gioco si vede a qualche è in italiano saltiamo il menu già da qua si vedeva che era già in italiano ragazzi guardate qua il gioco ragazzi è in italiano è in italiano adesso voi direte ma ne che mi posso tenere windows 10 come lingua inglese appunto dobbiamo fare così dobbiamo rimpostare la lingua in italiano prima di fare questo ovviamente chiudiamo il gioco clicchiamo nuovamente col tasto windows i andiamo su time and language language e andiamo a selezionarci la lingua italiana ovviamente ci disconnettiamo e ci ricolleghiamo una volta che il nostro gioco ragazzi è tornato in italiano cosa ci resterà da fare ci resterà semplicemente provare ad avviare vrc 8 e vedere se ha mantenuto le impostazioni in italiano è una cosa subito che devo specificare ragazzi su epic games non dovete più modificare la lingua perché appena toccate qualcosa per sbaglio la mettete in inglese o cambiate lingua dovete rifare nuovamente tutto il procedimento da capo perché non so per quale motivo il gioco ripartirà in inglese la cosa non va bene quindi basterà semplicemente avviare vrc il gioco già si vede in italiano saltiamo il menu e ragazzi il gioco è in italiano ovviamente la procedura ragazzi può sembrarvi alquanto bizzarra lo è sembrata a me per me è una cavolate un qualcosa una falla che tra epic games il gioco c'è e va risolta anche perché non è una procedura diciamo molto comune non è mai capitato di dover fare questi procedimenti per i giochi semmai trovi un file cambi da lingua da inglese italiano del gioco finisce lì niente ragazzi questo video tutorial finisce qui spero di esservi stato utile se il video vi è piaciuto pollice in su se non siete iscritti al canale iscrivetevi noi ci vediamo alla prossima live ciao ragazzi ciao